giorno dal dottor claudio saracino del benessere ipnosi soluzione oggi parleremo di orticaria orticaria e ipnosi vera e professionale non sto qui a dirti cos'è l'orticaria vai su wikipedia vai su internet ma se tu hai questo problema dell'orticaria le provate tutte può sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona certificato che abbia già affrontato problemi di orticaria ipnosi vera e professionale provare a risolvere il tuo problema sappi solo che da mie esperienze personali dirette indirette nella mia associazione ipnologi associati di los angeles baby reels si sono risolti tantissimi casi di gente che aveva l'orticaria con l'ipnosi ripeto vera e professionale non devi credere a me perché la mia unica missione anche se vendo del materiale a pagamento però la mia unica missione è sdoganare l'ipnosi a prescindere dal sottoscritto e che tu sappia che esiste un'altra strada che l'ipnosi vera e professionale per risolvere il tuo problema dell'orticaria che dire non devi credere se non hai voglia di girare cappella e mandami un'email ipnologi associati che oggi alla libro punti t io compatibilmente con i miei impegni e con i miei tempi ti risponderò gratis su cosa fare anche se mi consigli non rappresentano diagnosi netti cura non fanno terapie perché il tuo medico di fiducia sempre è responsabile della tua salute a cui ti invito calorosamente ad andare poi che tu utilizzi l'ipnosi è un altro discorso e visita anche la mia fan page su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.iprolegi associati.com e iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dicesse il dottore claudio saracino facendo condividi con amici parenti che hanno il problema dell'orticaria perché può essere quel quid quella molla che veramente li fa svoltare una volta per tutte da questa da questo problema la pelle eccetera eccetera chiamato orticaria e vista anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dicesse il dottor claudio saracino e al prossimo video un bacio un abbraccio